gentili telespettatori buona giornata matteo salvini a mezzanotte è andato davanti ai giornalisti alle telecamere ha aspettato un'ora per vedere i risultati ancora più certi quando si è accorto che probabilmente la sconfitta era vicina comunque ha messo ci ha messo la faccia e ha parlato ai giornalisti e alle telecamere ha detto non mi sento sconfitto si vince e si perde ma se perdo sono ugualmente felice anzi lavoro il doppio dovranno aspettare i prossimi vent'anni per vedermi stanco matteo salvini in questa campagna elettorale è passato dappertutto in emilia romagna nei paesi che non hanno mai visto un vip diciamo un politico nella loro storia quindi matteo salvini ha toccato con mano ed è stato in posti dove nessuno era mai passato prima al di là delle posizioni politiche bisogna dar conto di questo non segreto di matteo salvini di farsi vedere toccare dove mai era passato qualcuno di noto ha un valore che va al di là delle elezioni politiche matteo salvini ha fatto oltre oltre 150 comizi e ha perdifiato in una ventina di giorni battendo realmente la regione palmo palmo tutti con l'inevitabile finale del selfie matteo salvini dice quella in emilia romagna è stata una cavalcata eccezionale emozionante e commovente sono orgoglioso di avere incontrato le persone uscendo dai social e rivendica comunque il risultato avere una partita aperta è già questa una emozione che dopo 70 anni ci sia stata una partita è già questa un'emozione e in ogni caso e lo dice per certi radical chic quando il popolo si esprime ha sempre ragione io non dirò mai come fa qualcuno che la gente non capisce niente a secondo di come vota insomma ancora non sa l'esito delle elezioni ma dice chi vincerà si chiami lucia o si chiami stefano lo avrà sicuramente meritato ma i leghisti dicono i soldi peggio spesi di questa campagna eletterale sono state quelle per i sondaggi perché fino a ieri sera si si passava tra le mani dei leghisti dei sondaggi che davano la borgonzoni in vantaggio di 2,8 per cento ma Matteo Salvini dice un dato salto all'occhio il movimento 5 stelle sostanzialmente scompare dall'emilia romagna e quasi anche dalla calabria due delle regioni in cui il movimento è nato io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è assolutamente gratuita e non comporta null'altro che un aiuto a sostenere ad essere più visibile al canale siamo anche in facebook nella pagina tele italia dove trovate tutti gli stessi video che trovate su youtube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci e vi ringrazio per avermi ascoltato e vi ringrazio per avermi ascoltato e vi era